buongiorno amiche mie buongiorno allora non vedete cosa sto facendo questo soffritto ho messo carota sedano e cipolla facciamo ammarcare un poco e facciamo il nostro buco di tacchino guardate qua in umido pomodorini e ora vi faccio vedere che bello saporito lavati belli belli di tacchino io l'ho tagliato vedete lo tagliate perché se no e coppa facciamo una bella cena per stasera faccio rosolare da una parte che dalla parte dell'altra poi andiamo a tirare con il vino ok non so se a voi piace il sacchino io vado a parte del sacchino mi piace c'è un po di tale anche un po di pepe che ci sta questa volta allora adesso andiamo a mettere il vino facciamo evaporare e poi andiamo a mettere il pomodoro il profumo il profumino allora adesso andiamo a mettere i pomodorini facciamo cuocere al limite andiamo a mettere anche un bicchiere 2 di acqua così si cuoce ecco qua e ci vediamo mettiamolo in coperchio ed eccoci qua il tacchino è conto adesso andiamo tutte le carote le cipolle bello tenero tenero ecco qua ecco qua ecco qua lo metto il colo qua ora lo buccia m'oguonte buonissimo non potete immaginare il sapore il gusto buono non potete immaginare il gusto buono non potete immaginare il gusto buono si scioglie in bocca buono mi raccomando fatelo perché è troppo buono non potete immaginare il gusto buono non potete immaginare il gusto buono